Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo video Sì, mi rendo conto che molto probabilmente c'è tipo il video un po' storto e il motivo è sempre lo stesso io registro i video con la telecamera interna del mio iPhone e non ho mai un cacchio di appoggio anzi vi invito, facciamo una colletta compriamo un appoggio per iPhone alla mia Uller così che lei possa mettersi a registrare i suoi video dove cacchio le pare e c'è sempre un po' G-iPhone po' G-iPhone per poter registrare vi ringrazio per aver avuto la pazienza di aspettare i miei nuovi aggiornamenti questo voleva essere un reso mensile però mi sono resa conto che, minchia, non vi ho detto cose da troppi mesi quindi facciamo tipo un reso annuale del mio primo Working Holiday Visa questo è nearly il mio primo anno in Australia in realtà farò un anno, il mio primo anniversario sarà il 23 di ottobre ho preparato una lista di tutte le cose di cui voglio parlarvi in questo video così che non mi perdo in chiacchiere allora, innanzitutto vi ho già detto sì, che questo è un video di update è un video in cui vi racconto come sono andati i miei mesi se non mi seguite da tanto tempo ho lasciato il Regno Unito lo scorso aprile 2019 ho avuto una parentesi italiana, quindi tra nord e sud, escluse le isole ciao Sardegna, ciao Sicilia, tornerò, tornerò, non ci sono mai stata verrò presto a visitarvi mi sono spostata anche in Spagna, sono stata a Barcellona e poi ho fatto il mio viaggio nel sud-est asiatico ho visitato la Thailandia, la Malesia e Bali e poi sono arrivata il 23 ottobre 2019 a Perth, nell'Australia occidentale sono quindi qui in Australia da quasi un anno ma non è stato un anno di sola Perth sono stata in questa città, che è la capitale del WA dal 23 ottobre dello scorso anno fino all'incirca il 20 dicembre, sempre del 2019 poi mi sono spostata a Mangimap, nel sud del WA e ho iniziato i famosi 88 giorni di farm che sono necessari per chi ha un visto vacanza-lavoro per poter ottenere un secondo visto quindi altri 12 mesi da spendere in questo paese meraviglioso cosa è successo però? che mentre ero a Mangimap a febbraio più o meno è iniziato il periodo del covid è arrivato questo bruttissimo virus e mi sono ritrovata in una situazione un po' brutta sono stata cacciata dall'ostello mi sono ritrovata in mezzo a una strada ma non voglio dirvi cose che già sapete per chi mi segue da tempo per chi è nuovo o per chi mi segue da tempo ma si è perso questi aggiornamenti sempre qui sotto in descrizione faccio anche così con le manine vi lascio tutti i link ai miei vecchi video la descrizione ragazzi io impiego del tempo e sapete che il tempo secondo me è la cosa più preziosa che abbiamo impiego del tempo a registrare questi video impiego del tempo a montare questi video e impiego del tempo a scrivere le descrizioni sotto ad ogni video quindi per favore leggetele anche perché ci trovate link a video passati ma anche tantissime offerte se vi state trasferendo nel Regno Unito ad esempio se siete appena arrivati nel Regno Unito ci sono dei link qui sotto dove potete avere dei discount per ordinare la sim telefonica per ordinare del cibo per prendere un taxi in generale qui sotto trovate veramente un sacco di info che vi invito a leggere rimandandovi quindi ai miei aggiornamenti dell'essere stata cacciata all'ostello ritrovarmi in mezzo a una strada mi sono poi ritrovata in un motel dove tra virgolette ho passato la mia quarantena qui in WA non c'è mai stato un vero coronavirus non c'è mai stata grazie al cielo una situazione neanche lontanamente simile a quella che state vivendo e avete vissuto in Europa però c'è stato comunque un periodo dove non si poteva lavorare dove i backpackers non erano visti di buon occhio dove gli italiani non erano molto apprezzati e io mi sono ritrovata a fare tutt'altro a fare le mie passeggiate nei boschi a fare le mie lezioni d'arte fino a quando a giugno fine giugno ho ripreso a lavorare in farm ho ripreso a lavorare in una farm di truffles, di tartufi ed è stata forse l'esperienza più bella di tutto il mio percorso nelle farm ho lavorato per un'azienda familiare di tartufi ed è stato bellissimo non solo il contatto con la natura l'atmosphere che c'era in quella famiglia perché mi sono sentita parte sia del gruppo lavoro ma anche parte proprio della famiglia abbiamo avuto cene dopo il lavoro drink di benvenuto drink d'addio la cena italiana quando sono andata via e c'era il contatto con i cani ho fatto la guida turistica per questa azienda quindi è stata veramente un'esperienza bellissima senza contare che comunque lavoravo col cibo lavoravo con i tartufi e per me è stato bellissimo una grande esperienza ho finito finalmente i famosi 88 giorni a metà agosto e ho lasciato non uso il termine per sempre perché nella vita mai dire mai ma ho lasciato for good Mangimap il 15 di agosto sempre qui in descrizione vi lascio il video dei vari spostamenti perché ho lasciato Mangimap con Erika e abbiamo fatto un viaggetto da Mangimap fino a risalire su Apert fermandoci a Bamburi e ci siamo fermati anche nella città degli ignomi che è stato veramente per me fantastico perché ero lì con tutti questi nani da giardino in un bosco a vivere secondo me è una magia è stata un'esperienza veramente veramente molto bella e poi sono arrivata la sera del 15 di agosto qui a Apert direttamente nel mio nuovo appartamento siccome ogni volta che su Instagram vi posto le foto del mio angolo preferito della casa di questa bellissima balconata dell'alba che vedo tutte le mattine o dei vari tramonti e tanti mi chiedete ci mandi più foto della casa è una casa bellissima domanda ma per caso mi state chiedendo un home tour cioè io una cosa che non ho mai fatto in tutte le case in cui ho vissuto nei vari paesi non vi ho mai fatto vedere in realtà dove vivevo giusto? a parte tutti i vari ostelli in cui mi sono trovata non vi ho mai fatto vedere in realtà la mia casa quindi boh mi stavo chiedendo adesso che qui mi sto veramente stabilizzando ma volete vedere com'è casa mia? volete vedere dove vive la Müller? se fatemelo sapere nei commenti qui sotto magari ce penso è la prima volta da quando sono in viaggio a parte Birmingham che mi trovo in una house in una casa che sento home che sento proprio proprio casa io sono felice di stare qui difatti tornata in città non è che mi sia data uscite pazze pub ristoranti discoteche vita mondana io poi vivo in CBD sono in pieno centro no mi godo la casa mi godo stare rilassata sul divano mi godo Netflix mi godo cucinare al momento mi sto dedicando alla cucina vegana ho iniziato il mio primo baking sono una schiappa però la mia ultima torta vegana di cocco e limoni è stata un successone morbidissima buonissima ma non sa né di cocco né di limoni però è veramente molto buona progetti futuri ah no prima aspettate che se no mi perdo nuova casa ve l'ho detto io seguo gli appunti appunto per non perdervi ho una nuova casa e un nuovo lavoro quindi ho terminato tutto il mio processo farm lavorare in campagna necessitare dei giorni per richiedere un secondo ho visto e sto conducendo al momento una vita normale ho una casa normale non sono più in un motello non sono in una casa di latta ho una vera cucina con del vero cibo non mangio più ravioli in scatola al microonde e ho un lavoro vero cioè non curo le piante non vivo con gli animali ho un lavoro vero sto vivendo una vita normale quindi a parte questa vita normale quali sono i miei progetti futuri senza dubbio vorrei riprendere a viaggiare ovviamente dovete capire che lo stato in cui sono che è quello del WA ha chiuso i borders i confini il 6 di aprile del 2020 e non c'è intenzione alcuna per il momento di riaprire questi confini quindi la gente che è in questo paese è qui già dal 6 aprile e non c'è possibilità per altra gente al di fuori di questo stato di poter entrare via terra via mare via cielo in qualsiasi modo quindi quelli siamo stati e quelli siamo e quelli saremo difatti al momento di casi covid attivi ad oggi mentre registro il video ne abbiamo se non erro meno di 7 e sono tutte persone che non sono in ospedale e comunque qui non avendo gente nuova che viaggia che si sposta che va e che viene è una situazione molto controllata quindi quando dico riprendere a viaggiare non ho intenzione di lasciare questo stato di sicurezza che ho questo stato in cui mi sento safe mi sento sicura e protetta ma vorrei viaggiare all'interno di questo stato perché comunque io mi sono spostata semplicemente a sud per fare le farm viaggiavo ogni weekend avete visto le varie spiagge che ho visitato il mio compleanno sono stata su l'isola Bedericuocca però poi è arrivato il covid e non ci si è più mossi mentre adesso che ho una situazione di stabilità e comunque ho una casa una base dove posso tornare mi piacerebbe spostarmi sempre all'interno di questo stato e visitare magari i posti del nord visitare il deserto o andare a vedere altri animali ho scoperto che c'è un animale è tipo una specie di ratto che si chiama Mala e vive nel deserto e fa la pipì cristallizzata quindi voglio andare a vedere questi cristalli di animaletto cose che a me emozionano però magari per voi sono cavolate non ho idea progetti futuri quindi sono senza dubbio quelli di cercare di mantenere il lavoro che ho anche perché io sono una che ha voglia di cambiare e la mia felicità viene sempre prima di tutto quindi se il posto di lavoro diventa una cosa troppo di stress le cose non vanno come vanno si cambia ragazzi ho la fortuna di poterlo fare e ho la fortuna di vivere in un paese dove posso farlo al di là delle mie competenze capacità qualità lingue che parlo eccetera quindi farò di tutto per non annoiarmi di questo lavoro cercherò di mantenerlo il più possibile ovviamente con il mio visto non posso legalmente lavorare per lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore a sei mesi quindi diciamo che per i prossimi avendo ancora un mese e mezzo del mio primo working holiday diciamo che all'incirca per otto mesi avrò questa casa e si spera avrò quel lavoro e in generale in questo periodo di tempo vorrei viaggiare vorrei spostarmi tanto sto cercando di organizzare un road trip per il mio compleanno quindi in estate a febbraio magari mi vedrete di nuovo in viaggio per un paio di settimane poi comunque ritornerò qui il mio progetto al momento come sempre il mio grande programma è quello di non avere un programma perché siamo in evoluzione perché non abbiamo certezze perché magari domani mattina mi sveglio e voglio mettere su famiglia e perché magari domani mattina mi sveglio e voglio tornarmene in Italia perché magari domani mattina mi sveglio e voglio fare la nomade non ne ho la più pallida idea di base mi piacerebbe rimanere qui a Perth appunto considerandola la mia casa il mio posto dove tornare la mia base e di spostarmi e godermi quest'anno in Australia comunque con base Perth poi alla fine del mio secondo working holiday visa non ho la più pallida idea di cosa succederà e non ho la più pallida idea di cosa succederà neanche durante però di base i miei aggiornamenti ve li ho dati sapete cosa mi è successo roughly da quando sono arrivata qui in Australia quindi dal 23 ottobre fino ad oggi e più o meno avete un'idea di quello che succederà cioè avrete tantissimi video di questa città tantissimi video magari di me in cucina magari vi faccio un home tour vi porto in giro con me quando vado a fare la spesa e non lo so spero di riuscire a mantenermi attiva su questo canale come vedete anche quando mi assento poi torno sempre un video ogni couple of months riesco a montarvelo e a pubblicarvelo adesso ve ne ho lasciati ben tre quindi andatevi a vedere gli ultimi video e come sempre vi invito a seguirmi su Instagram perché lì riesco ad essere un po' più costante riesco a lasciarvi una foto un post al giorno e comunque nelle mie stories un po' in giro vi porto sempre vi ringrazio come sempre per il tempo che mi avete dedicato guardando questo video vi ringrazio per il tempo che mi dedicherete se avete voglia a lasciarmi un commento qui sotto vi abbraccio veramente tutti state a casa fate i bravi cercate di non diffondere questo virus come avete già fatto e non lo so guardate più video della Mueller guardate più Netflix cucinate allenatevi in casa state a casa fate i bravi fate i bravi un bacio grande a tutti voi e come sempre stay tuned scusate mi sono dimenticata a parte l'home tour e altre avete dei video richieste ci sono domande che volete farmi quindi vogliamo riaprire una schilaria vogliamo fare una carrellata di domande e io vi faccio un video risposte ci sono dei video in particolare che volete che vi giri c'è qualche argomento in particolare che volete che magari parli in un prossimo video non so le differenze culturali tra il Regno Unito e l'Australia se c'è qualcosa dell'Australia che detesto se c'è qualcosa che amo particolarmente fatemi sapere lo sapete e questo canale è bello perché ci deve essere un confronto altrimenti non ha senso sarei io davanti a una camera io me la suono io me la canto me la ballo pure quindi se avete domande se avete video richieste per favore lasciate un commento qui sotto mandatemi un'email scrivetemi su Instagram mandatemi un piccione viaggiatore un segnale di fumo fatemelo sapere e io considererò sicuramente le vostre richieste ari ciao e fate i bravi ciao 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 ciao